Il Mat recentemente ha ricevuto due importanti donazioni. Una coppia di dipinti che raffigurano il garibaldino clusonese Giacomo Cristofoli e sua moglie, due dipinti della fine dell'Ottocento e inizio Novecento, e un modello in gesso bronzato risalente alla bottega di Donato Andrea Fantoni del 1735. Si tratta di opere davvero pregevoli e con una grande importanza sia dal punto di vista culturale e artistico, ma anche storico in particolare per quanto riguarda la figura del garibaldino Cristofoli. È importante per il museo anche questo gesto, il gesto dei cittadini privati che hanno voluto donare queste loro opere perché fossero fruite da un pubblico numeroso e quindi non più soltanto nell'ambito della sfera privata. Quindi a nome dell'amministrazione ringrazio anche questi collezionisti privati che hanno avuto questa disponibilità e questa sensibilità nei confronti anche del museo e della cittadinanza. Le opere saranno presentate in un incontro il 28 dicembre in Sala Legrenzi alle ore 16 grazie alla presenza e alla disponibilità della dottoressa Lidia Rigon, direttrice della Casa Museo Fanta di Rovetta, una sicuramente delle massime esperte della bottega Fantoni e alla presenza anche degli storici Mino Scandella e Caris Burlini. Al termine della presentazione ci sarà anche un momento di festa sia per farci gli auguri sia per presentare anche il nuovo direttivo dell'associazione Mat Club, un'associazione che è un po' la linfa vitale del museo, è costituita per lo più da giovani e quindi questo ci fa particolarmente piacere. La dottoressa Laura Benzoni, presidente uscente, passa il testimone al neopresidente Giulio Serafini e alla vicepresidente Elide Cossali. Sono ragazzi pieni di entusiasmo, pieni di idee, di voglia di fare, di collaborare, quindi sicuramente sarà l'inizio di una nuova collaborazione proficua, come del resto lo è sempre stata anche con il direttivo precedente negli anni scorsi. Vi aspettiamo quindi tutti numerosi, sia per ammirare le nuove collezioni del museo, che si sono arricchite di questi tre importanti pezzi, sia per augurarci poi una buona 2014 in compagnia del Mat Club.